C'è anche il vice sindaco di Mister Bianco, Carmelo Santa Paola, cugino dei Placenti, tra gli arrestati dei carabinieri nell'ambito dell'inchiesta su mafia e scommesse online della Procura di Catania. A lui è contestato il reato di intestazione fittizia di beni in qualità di titolare di fatto, assieme ai fratelli Placenti dell'Orso Bianco Caffè locale incontrato a Montepalma, già sequestrato il 14 novembre scorso. Prosegue l'inchiesta Gaming Online che ha svelato un giro di affari illeciti sui giochi online gestito dalla mafia. Oggi la Procura di Catania ha fermato altre 21 persone. I reati contestati sono associazioni mafiose a delinquere, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e intestazione fittizia di beni. Reati legati alla gestione illecita di imprese in Italia e all'estero sull'acquisizione di licenze e concessioni governative utilizzate per le attività di giochi e scommesse a distanza effettuate aggirando le normative fiscali e antiriciclaggio. Emerse anche violazioni delle misure di prevenzione patrimoniali con l'intestazione fittizia di beni e società. All'inchiesta ha dato un importante contributo l'imprenditore del settore, Fabio Lanzafame, che sta collaborando con la magistratura. Nell'ambito dell'operazione, chiamata Revolution Bet 2, carabinieri hanno arrestato quattro persone ritenute appartenenti alla famiglia Santa Paola Ercolano e in particolare alla frangia operante nel comprensorio di Lineri di Mister Bianco. L'attività investigativa ha fatto luce sul gruppo mafioso capeggiato dai fratelli Carmelo Gabriele e Vincenzo Placenti, abituato ad operare sotto traccia in modo da eludere eventuali indagini, quello che Carmelo Gabriele Piacenti in un'intercettazione chiamava la duranza, cioè la durata. Ma anche rapporti con soggetti ritenuti vicini al superlatitante Matteo Messina Denaro, tra cui il nipote di quest'ultimo, Francesco Guttadauro, oltre che con persone riconducibili alla famiglia camorristica dei Nuvoletta di Marano. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 70 milioni di euro, in particolare sono 207 rapporti bancari e conti correnti accesi in Italia e nell'isola di Mann, in Austria e in Gran Bretagna e a Malta, 42 immobili, 36 attività imprenditoriali, operanti non solo nel settore del gaming, 24 centri scommesse e dislocati tra Messina, Catania e Siracusa e 9 automezzi. Il provvedimento è la prosecuzione sul fronte delle indagini sulla famiglia Santa Paolo Ercolano dell'operazione del 14 novembre scorso con l'esecuzione di fermi nei confronti di 15 indagati, alcuni dei quali indicati come mafiosi che operavano nel settore delle scommesse online.